Gli Stati Uniti d'America hanno condannato l'Unione Europea alla fame e al freddo, sono le parole pronunciate, meglio scritte su Telegram, dal presidente della Duma russa, Vyacheslav Vologhin. Gli Stati Uniti hanno anche condannato all'isolamento internazionale l'Unione Europea stessa, a dirlo sempre l'importante personaggio politico pubblico vicino al Cremlino e a Putin. Venerdì scorso. Sempre su Telegram ha scritto che Washington non vuole, non ha intenzione, alcuna intenzione di tornare sui suoi passi per quanto riguarda l'aver condannato già di fatto i cittadini dell'Unione Europea, i popoli europei più che l'elite, la cosiddetta elite che sta a Bruxelles o a Strasburgo, di aver buttato sotto a un autobus, letteralmente, lo stile di vita, il benessere dei cittadini europei e l'economia, le grandi soprattutto economie dell'Ovest europeo. Gli Stati Uniti pagano, o meglio, negli Stati Uniti il prezzo del gas naturale a 333 dollari ogni chilometro cubo, mille metri cubi. Washington rivende allo stesso tempo 7,3 volte di più, più alto il prezzo di prima, ai propri amici europei il gas naturale liquefatto che arriva in Italia, per esempio, nei famosi rigassificatori. Questo ammazza letteralmente la capacità, la concorrenza delle aziende dell'Unione Europea nei confronti proprio degli Stati Uniti, il paese indubbiamente più importante dell'alleanza nordatlantica, della Nato a livello militare, ma anche occidentale a livello economico. L'Unione Europea, la decisione dell'Unione Europea, l'ultima proposta di abbassare, approvata tra l'altro, a maggioranza qualificata, se non erro, dai paesi dell'Unione Europea, ma c'è stato il no comunque dell'Ungheria all'interno dei 27 membri sull'abbassare il 15% del consumo di gas naturale, è stata una decisione, secondo Vologhin, dettata dalle pressioni di Washington, dello Stato profondo americano, soprattutto democratico, ma anche neocon. La politica degli Stati Uniti è rappresentata nel continente europeo dall'Inghilterra, che è uscita tramite la Brexit dall'Unione, e poi da altri paesi satelliti degli Stati Uniti, che sono sovrani solo formalmente, cita la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, le Repubbliche Baltiche, l'Ucraina, la Polonia. Poi ci sono anche, quindi soprattutto lui parla dei polacchi, dei cechi e dei finlandesi, a proposito di Sannamari, l'ultimo segmento, che stanno cercando di entrare in quella cerchia russofoba, coalizione russofoba, che hanno un atteggiamento più duro nei confronti della Russia per la questione ucraina, ma per l'isolamento dei cittadini, dei turisti, dei lavoratori russi provenienti dalla Russia. Medvedì è vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, anche lui su Telegram. Meglio stare d'inverno con la compagnia russa calda, cioè avere il gas russo sostanzialmente, piuttosto che essere nella solitudine fredda, gelida, orgogliosa, con i radiatori spenti. Quindi si parla, attacca i governi europei, l'avrete letto, poi vedremo poi il sole 24 ore più in là in questo segmento, cosa dice le reazioni politiche dei partiti italiani, almeno così sinteticamente perché si occupa di politica europea questo canale, il Magiaro. I governi europei, soprattutto quelli baltici, i mendicanti baltici li chiamano, parole durissime, e poi i rabbiosi polacchi e tutta la Nato, chi scappa verso la Nato, cioè i finlandesi, stanno lì a scalpitare, fanno a gara sostanzialmente a chi la spara più grossa, più mostruosità contro la federazione russa e i suoi cittadini, il suo popolo. Certamente, dice Medvedev, il lavaggio del cervello nei confronti di questi popoli, dei loro governi, è forte. E poi parla della solidarietà europea, dell'inflazione, della difesa, del rafforzamento della democrazia e dei valori europei. Secondo questi popoli russofobi, questo è il pensiero di Medvedev, questo dovrebbe poter abbattere l'orso russo, la minaccia russa, quando in realtà abbattono solo la capacità competitiva delle aziende europee, di questi paesi meglio, e l'ostività, il benessere dei cittadini più fragili soprattutto. Europei, punite i vostri governi per la loro stupidità. Medvedev entra nella campagna elettorale italiana, ma non solo, e scoppia il caso. Di Maio, Di Maio, ministro degli esteri, preoccupa l'ingerenza russa, tutti prendano le distanze. Allora ho pensato subito, dove ho sentito l'ingerenza? Ci sono altre ingerenze, come per esempio quella del commissario europeo ex al bilancio, Oettinger tedesco. I mercati insegneranno agli italiani a votare meglio, in modo giusto, non in maniera sbagliata, rispetto alla nostra convenienza, ai nostri interessi a Bruxelles, ma soprattutto a Berlino. Di Maio, a quel tempo, sono nel 2018, quindi parliamo di praticamente 5 anni fa, quasi 4 anni fa, Di Maio ci trattano come una colonia estiva, lo stesso Di Maio di prima. Capite gli interessi dove stanno, come è manipolata la politica oltre che l'informazione. Se volete sostenere questo tipo di informazione il più possibile autentica, nazionale conservatrice, potete farlo attraverso i metodi indicati in descrizione, Paypal anche mensile e bonifico bancario. Ringrazio l'immenso Dante per l'enorme sostegno al canale comprensibile, vista l'informazione italiana attuale, di un livello allucinante, soprattutto perché spinta dagli stessi interessi. E questo inequivocabilmente vero, basta accendere una televisione, o ascoltare la radio, o leggere qualche sito di informazione, o leggere qualche giornale cartaceo per rendersene conto. La Romania intanto, perché non è il Magiaro che cerca di fare terrorismo mediatico, come hanno scritto certi nei commenti, ma la situazione si sta degradando molto velocemente in Europa. In Romania, una delle più grandi centrali, o meglio fabbriche, che si occupa di prodotti chimici, per qualche tempo chiude, letteralmente chiude, per i prezzi energetici di corrente e gas troppo alti. Chim Complex è il suo nome. E quindi la ricaduta sull'economia, sulle forniture di prodotti chimici nei paesi intorno, europei soprattutto, e quindi l'aumento dei prezzi conseguenti, le crisi dei posti di lavoro, dell'economia, e quindi anche le stime di crescita, tutto a cascata peggiora, sostanzialmente. Il ministro Ceco, questo per quanto riguarda la Repubblica Ceca, uno dei paesi più esposti nella lotta alla Russia di Putin in Unione Europea, potrebbe essere necessario un razionamento del gas tra i cittadini, tra le famiglie, a dirlo il ministro Josef Shikela, spero di pronunciarlo bene. Oro Sirek del tutto, si fermerà del tutto il Nord Stream, cioè il gasdotto Esachiaromlot, in ungherese lo diciamo con parole nostre, in italiano si dice all'inglese, gasdotto nordico che passa sotto al Baltico, tra il 31 agosto e il 2 settembre, per motivi, ufficialmente secondo Gasman, secondo la controparte russa, per motivi di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda problemi con componenti, come turbine date dalla Siemens, che è una ditta tedesca, ma che opera in Canada e anche nel Regno Unito, come abbiamo letto in uno scorso segmento. Mitro Kuleba, intanto ministro degli esteri ucraino, gli appelli da alcuni politici tedeschi a lanciare Nord Stream 2, quindi superare la crisi del Nord Stream 1, aprendo temporaneamente, e poi chiuderlo di nuovo in un secondo momento, il Nord Stream 2, sono del tutto irrazionali, assomiglia alla dipendenza dalla droga. Quando una persona dice solo un'ultima volta, senza rendersi conto delle devastanti conseguenze di ogni ultima volta, la dipendenza dal gas russo uccide. Uno potrebbe dire, sì, è cosa buona e giusta, cercare di essere indipendenti, come nazioni, Italia e Ungheria che sia, energeticamente, dalla Russia e da altri, ma anche da altri. Non è solo la dipendenza dalla Russia che può uccidere, ma anche la dipendenza, per esempio, dagli Stati Uniti, dagli Emirati Arabi, dall'Azerbaijan, dal Nord Africa, oppure no? La sovranità va mantenuta anche nei confronti, non solo rispetto a Est, alla Cina e alla Russia, ma anche rispetto, per esempio, a Ovest, Londra, Berlino, Washington, eccetera, eccetera. Quindi, uno scambio di accuse tra Mosca e Kiev, che ci sta, perché sono nazioni in guerra. in realtà, anche noi, siamo in guerra come Nato. Questo, nei fatti, è, tra virgolette, apprezzabile, anche nelle dichiarazioni, del capo della Nato, Stoltenberg, nei confronti, anche, di scenari di guerra, non solo come quello ucraino, ma anche come quello, possibile, speriamo di no, in Kosovo, con la questione, serba e balcanica. Che cosa dice, qual è la prospettiva del governo ungherese? Praticamente, l'unico che dice no, seriamente, coerentemente, dall'inizio, apertamente, alle sanzioni, agli embarchi energetici, tra virgolette, antirussi. Orban Bolag, uno molto importante nel governo ungherese di Orban. Si sta formando una vera e propria crisi gravissima energetica nel nostro continente. Il settore, già soffriva, ben prima del 24 febbraio, dall'inizio, della operazione militare speciale, barra invasione russa in Ucraina, per problemi di estrazione, di produzione energetica, di investimenti, le conseguenze delle misure, tra virgolette, anti-covid, tra virgolette, lo metto io, perché Fides è vaccinista, eccetera, eccetera, e per quanto riguarda le politiche suicide, cosiddette verdi di Bruxelles, quindi i burocrati di Bruxelles, per citare Orban. Per quanto riguarda l'Ungheria, che cosa facciamo? Stiamo facendo, no ad ogni embargo, petrolifero, gas, eccetera, eccetera, russo. Le aziende devono, quelle energetiche, aumentare la produzione di gas, perché in Ungheria abbiamo il gas naturale, per fortuna, e anche l'estrazione di carbone. Abbiamo fatto il divieto di esportazione verso l'estero di materiale energetico, come la legna da ardere e altre cose. abbiamo ingrandito Pox, la centrale nucleare, abbiamo riaperto la centrale all'ignite di Matro, nel nord del paese, e manteniamo basse le tasse, cioè il Regi Cercente, per quanto riguarda le bollette. Qui ci sono delle critiche da fare, che ho già fatto per non allungare questo segmento, mi limito a questo. Bloomberg, intanto, dice che il governo ungherese, Orban, è riuscito a evitare una recessione economica in Ungheria, tramite il razionamento di certi prodotti alimentari, perché si è tenuto basso un certo prezzo, e questo ha portato a una scarsità di questi prodotti sugli scaffali, ma non solo, anche gas e corrente, ha fatto delle cosucce controverse, e poi anche le tasse rimaste piuttosto basse, le più basse d'Europa, per quanto riguarda il gas, per esempio, dell'Unione Europea. L'economia ungherese è cresciuta nell'ultimo trimestre, rispetto al trimestre scorso, dell'1,1%, quando avrebbe dovuto invece calare di livello, quindi peggiorare. Per quanto riguarda invece l'aspetto valutario, il fiorino ungherese, rispetto all'euro, continua ad andare malissimo, per non dire malissimo, e questo penalizza la crescita del prodotto interno, l'ordo GDP. Anche qui meglio comunque avere sovranità monetaria, che avere una moneta straniera, quindi la leva monetaria, tutti gli strumenti che sappiamo di sovranità nazionale, rispetto ad avere il marco tedesco camuffato da euro, come in Italia, quindi l'Ungheria che non fa parte dell'eurozona, ringraziando Dio. Grazie per aver visto questo segmento al prossimo, tra Italia e Modior Orsag.